La manifestazione Come ho detto nella chiusura della gara ci teniamo per un motivo perché dà la possibilità di poter unire un aspetto fondamentale che è quello del golf ovviamente, ha la possibilità di conoscersi e di colloquiare, di avere le persone vicine con un pretesto straordinario che è quello di poter unire la presenza di un amico a un piatto cucinato nella maniera migliore possibile. Quindi io penso che la formula sia non solo vincente ma sicuramente da apprezzare e da spingere ancora di più in futuro e mi congratulo con chi con le proprie mani e la propria arte la rende possibile. Grazie. Io invece devo mandare un ringraziamento a tutta l'organizzazione di Risto Golf ma soprattutto a tutti i circoli che ci hanno ricevuto. E oggi un ringraziamento particolare al circolo di Rapallo perché ci ha accolto per la seconda volta come se fossimo vecchi soci, ci ha trattato, siamo stati trattati come dei grandissimi signori. Noi siamo felicissimi ugualmente, mi sembra che anche la gente nonostante non abbia giocato per un giocatore di golf, rinunciare a una partita di golf che è molto dura, li vedo ugualmente con un sorriso. Perciò vuol dire che questa formula e questo campo soprattutto e questo circolo si respira aria serena. E siamo felicissimi di essere qua e come ha detto un vostro consigliere speriamo che ci sia il non c'è due senza tre, speriamo che ci sia il tre. Ringrazio ancora tutti e soprattutto chi ha avuto la pazienza di aspettare così tanto tempo per poi arrivare a noi una decisione dolorosa che è stata quella di chiudere in anticipo la nostra gara. C'è un particolare che sicuramente ci legherà a breve tempo e che sicuramente sia a me che a te sta molto a cuore, che è quello della possibilità di realizzare un evento invernale dedicato all'associazione che quest'anno è partner di questa organizzazione che è l'Eismar, dedicheremo un evento qua a Rapallo, abbiamo avuto la promessa, quantomeno l'impegno di Morelli di essere presente, per noi sarà un'ulteriore soddisfazione e soprattutto sarà la possibilità di dare continuità a un rapporto perché il golf è anche questo e questo direi che è la giusta conclusione, il golf è sport sicuramente ma il golf deve essere e continuare ad essere rapporto tra le persone e una gara come questa sicuramente il rapporto di amicizia lo lega e è anche forte. E si solidifica. Grazie a tutti, grazie a tutti e grazie a Risto Volpi e soprattutto un grazie al nostro direttore Dario Colloi che ci aiuta e cerca sempre di minimizzare qualsiasi problema. Grazie a tutti e questo è un grande, grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti